Inaugurato ad Ercolano il centro antiviolenza Annabella Cozzolino, taglio del nastro affidato alla ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti insieme al sindaco Ciro Bonaiuto. Il centro antiviolenza è un servizio di aiuto a tutte le donne vittime di violenza o che hanno subito qualsiasi forma di discriminazione. Un supporto ad un nuovo tipo di vita libero e sereno. Il centro è un servizio pubblico offerto nell'ambito sociale del comune di Ercolano e si trova nei locali di via Marconi 39. La ministra Bonetti nel corso della sua permanenza in città ha avuto la possibilità anche di visitare la prima ludoteca comunale riservata ai bambini dai 18 ai 36 mesi, collocata presso la scuola materna di via Marconi e che ospita fino a 25 bambini. Una comunità che sa stare accanto alle donne, che sa denunciare la fatica, la ferite della violenza ma soprattutto offrire alle donne un'opportunità per ritornare ad essere protagoniste, libere della loro vita. Ecco, ripartire dall'educazione, ripartire dal lavoro femminile, ripartire dai legami di comunità significa rappresentare di nuovo quella bellezza straordinaria che questo luogo ha saputo interpretare nei secoli e di cui oggi è veramente il volto migliore. Dobbiamo provare a prevenire la violenza sulle donne perché ad Ercolano come in tante città del mezzogiorno spesso non viene percepito come tale il comportamento di subordinazione psicologica che le donne hanno dagli uomini. Aprire un centro antiviolenza ha un significato anche simbolico. Noi diamo la possibilità a tante donne di provare a cercare un lavoro anche saltuario perché hanno la possibilità qui di tenere i propri figli. Quindi significa stare accanto alle donne, stare accanto alle famiglie e soprattutto cercare di far sviluppare Ercolano intorno al lavoro. Il centro antiviolenza Annabella Cozzolino è intitolato Una Donna Libera e Forte, promotrice di iniziative indimenticabili come la creazione del primo sportello rosa di Ercolano a metà degli anni 90 per accompagnare le donne vittime di abusi e violenze. Per sfondare i confini della paura è necessario, diceva, uno spazio d'ascolto e di sostegno, di promozione e di percorsi anche sul versante del collocamento nel mondo del lavoro. Strumenti fondamentali per evitare che abusi e violenze possano sfociare in tragedie e femminicidi. Una coscienza anticipatrice mossa da una naturale vocazione pedagogica è una rara sensibilità per le sofferenze dei soggetti più deboli, fragili, vulnerabili della comunità ercolanese, da lei individuati nei bambini, nelle bambine e nelle donne. Il riconoscimento postumo credo fondamentalmente meditato perché quella che noi in famiglia chiamiamo la nostra esistente scomparso, che era una bella vozzolino, in qualche modo è stata un'antesignata, una coscienza anticipatrice. Già all'epoca di Sportello Rosa aveva in qualche modo intravisto quello che lei chiamava i processi di ridicolizzazione, volgarizzazione e banalizzazione della violenza contro le donne e anche i prodromi della colpevolizzazione delle vittime, degli abusi e dei maltrattamenti sessuali. Quindi credo che fondamentalmente sia meritato.